Sì, buon venuto, buon venuto al sorteo di lotto, lotteria di Aruba, il 29 settembre 2016, mi chiamo Rubiala Toppenberg. Buon felice a tutti, buon venuto, grazie per il paziente di Sanos, abbiamo un sorteo di più grande, qualche sorteo di lotto di Dio, che sta crescendo e ora chiediamo un jackpot di 93.000 flori, mi chiamo Ada Guerra. Siamo in questo studio, abbiamo incontrato il 12 gobierno e anche il rappresentante di lotto. la gana si va di via sinne qui, che è promedio il premio di Catochi, suerte e non un'iturna casa. La gana si va a cuota è quattro, numero non ganador, e non sta com' i saco, bolita numero 5. Sì, qui è per numero 1. La gana si va di via con i due premio di Catochi, suerte e non un'iturna. la gana si va di via con i due premio di Catochi, suerte e non un'iturna. La gana si va di via con i due premio di Catochi, suerte e non un'iturna. Sì, qui è per numero 2. una gana si va di via con i due premio di Catochi. Il seguita è uno. Il numero 9. 0 5 1 9 Poi viena a te reso non con un gà abonoci e ha ganato il sorteo di Catochi e la che non passa di via il sorteo di Beckford con i sui premios non per ripartire Non lo vida con Beckford che paga valente suma di 5 mil florini nel promedio premio Número 9 Promedio per Beckford e viaja per 8 Il siguiente è 9 e l'altro è 1 9 8 9 1 Poi viena a te reso non con Beckford la che non si chi ti viaja con Zodiac Tambi mi chieda informare che Zodiac paga valente suma di 25 mil florini nel promedio premio e se hai chermin per me cercare in tour ecuator che non è un corretto plus il signo Número 8 Sì chi ti viaja per 5 Il siguiente è 7 e l'altro è 3 85 73 è 4 Número del ganador per Zodiac Buon notte Compagnia me viena a te reso il signo per il sorteo di Zodiac con Mega Plus e già qua di Mini Mega costa 5 florini e potenziare 290 mil florini nel pot e Mega Plus con 2 florini extra potenziare con 170 mil florini assinata qua per volentare una acqua per assinare un po' comprare un buon sorteo tambi per voi gana e tremendo suma qui la gana spai di Pia con Rubia e la quale sorteo di Mazzarane e poi buon notte ma c'è da anche ade e buon notte il lotto di dieta un totale di 93 mila florini e lo vi da con il lotto di dieta con una tour dieta costava solamente 2 florini suerte e lo vi da con il lotto di dieta seguite via per numero 8 28 seguite per numero 15 in un scultimo per se mi completare il lotto di dieta numero 12 ripetire numero nangana d'orpa ove noce da bere 17 8 28 15 il numero 12 se da bere il numero nangana d'ora ove noce per il lotto di dieta ma se va bene se abo per la compra e a gana poi si va a arriva la pantalla e poi si va a controlla la botteca di lotto di dieta e poi si va a prendere un reprendimento e poi va a controlla se va a gana se va a meno e poi si va a controlla la botteca di portare uno o gana o due poi si va a suerte che vengono di Raspa e gana e con Gold Rush va a gana un dia 2 premio si va a tendere correcto Gold Rush tiene 2 premio grandi di 100 mil per guardare a Spah e gana e se va a provare suerte con un suegano di Raspa va bene di bianna tu resta un gonga e a gana a venuti con lotto cambiando la vita di su gonga e deportista in Akina Aruba no se evitavo per like no se per Facebook